buongiorno buongiorno a tutti ogni tanto ci si vede sui nostri canali social di plaviservizi.com spero tutto bene oggi vi faccio questo video proprio per una cosa che è successa a me personalmente relativa ai soliti adebiti che arrivano in caso di i cambi gestori in questo caso che riguardano la telefonia fissa allora visto che mi riguarda personalmente mi permetto di fare nomi e cognomi in merito a quello che mi è successo allora sì nel senso di dire praticamente quello che mi è successo allora il noto il solito gestore telefonico che ben conosciuto di quale abbiamo fatto abbiamo cambiato il gestore un anno fa mi manda una una fattura da pagare di 260 e 96 euro ok la faccio vedere perché così capite che non vi sto fesserie eccola qua ok questa questa fate pazienza che giro questa era relativa a un ipotetico saldo acquisto di un router eccolo qua vedete la vozzina che c'è scritto saldo acquisto no praticamente io dovevo pagarla ok di un router che vale sì e no un router a dsl semplicissimo banalissimo che vale sì e no io dico una cinquantina di euro poco più poco meno insomma ora in questi quarti che hanno 260 euro 96 iva inclusa anche io ovviamente non ho pagato e aspettavo delle dritte da parte del gestore perché ho detto ti vogliono soldi da me di una cosa che io non ho mai acquistato tra l'altro lo hanno cambiato di default loro senza neanche dirmi niente io ho fatto il solito ignaro cliente pensando che praticamente la cosa si chiudesse lì e invece no invece adesso vi faccio vedere è arrivata anche la un sollecito tra l'altro che comprendeva altri importi di di cose del 2014 che io sono sicuro di aver pagato completamente e eccoli qua c'è scritto facciamo salito note regione informiamo che non risulta prevenuto il pagamento di questi sollini c'era una nota d'accredito di 86 euro più di 260 del router insomma a fine dovevo ancora 274 euro di questo malefico router che io non ho mai chiesto anche io cosa ho fatto vista sta roba anche se è arrivata comunque imposta semplice e non raccomandata nei pack quindi per me può essere anche finta nel senso può essere mai arrivata io per essere corretto ho mandato una comunicazione dove recedevo dove ho mandato indietro questo router e recedevo sì che non volevo che non volevo pagare infatti questa è una comunicazione che ho mandato vedere una fatturazione linea firmata timbrata no dove c'è scritto che il saldo acquisto router io l'altro l'ho restituito all'indirizzo che mi hanno mi ha fornito il gestore il fantomatico gestore che continua a aumentare le fatture che anche questi giorni sta mandando comunicazioni che aumenterà le fatture ho mandato anche la ricevuta del corriere che se l'è preso se l'è portato via è buono cosa è successo che mi hanno dato un ennesimo sollecito adesso spero di trovarlo soprattutto su un malasma di carte perché ragazzi miei qua è un disastro nucleare mi hanno dato un altro sollecito ancora eccolo qua che tra l'altro senza più la nota da credito degli 80 euro quindi stavolta dovevo pagare i 260 e 96 per il io ho fatto il gnorri ho detto ma che questi cioè io ho mandato indietro il router e e ho scritto e loro vogliono ancora i soldi mi hanno detto addirittura che non so se è su sta carta qua o è su un'altra ancora comunque c'era scritto che erano scaduti i giorni ah sì sì che erano scaduti i giorni per cui io dovevo rispedire sto router e quindi praticamente andrea buongiorno è arrivato il nostro collaboratore in ufficio e quindi io praticamente ero dovuto pagare ha detto ha detto io li denuncio per stalking perché continuano a scrivermi e voli cito al cuore con una delle due oggi ho trovato l'ennesima lettera stamattina sulla buchetta delle lettere sempre posta semplice e ero già un po nervoso non avevo detto cacchio adesso veramente li denuncio per stalking questi e invece no la sorpresa qual era che mi hanno fatto la nota da credito ma pensa pensate voi dopo mesi questa cosa qui va avanti da mi sembra novembre della dicembre dell'anno scorso siamo a maggio quindi per cinque mesi io sono rimasto sul chi va la e loro mi hanno stornato praticamente il router e deve la faccio vedere ultimo stacchete ma ecco la nota di credito per recupero io inserito la risoluzione contrattuale avete visto quindi io dico che non prendete paura se vi arrivano fatture così perché fin tanto che non mi arriva la raccomandata dall'avvocato con la ricevuta di ritorno che anche lì è un po blanda perché basta chiamare comunque recupero crediti e spiegare la situazione che loro talvolta siccome conoscono come lavorano i gestori lasciano chiudono un occhio e dicono vabbè è successo con non più di un mese fa con un nostro cliente che gli ho detto ascolti ma perché io devo pagare sti 80 euro se poi ho chiuso il contratto erano gli 80 euro di anticipo di deposito cauzionale che uno va a fare ma io non li pago se ti chiudo la linea pertanto non voglio pagarli e in più mi avete fatto un addebito di un recesso di altri 80 euro erano 100 questo è questo qua che è di 100 euro per la disdetta che con la quale mi aveva detto il gestore che non c'era nessuna penale di recesso pertanto gli ho detto guardate io non ve li pago e sapete cosa mi ha risposto l'avvocato del recupero crediti beh ce lo scriva noi non facciamo altro che girarlo e quando lo scriviamo noi la cosa si chiuderà pensa la magia degli avvocati dei difensori delle compagnie telefoniche questo è un po così sull'ironico perché veramente qua in italia è un disastro nucleare c'è adesso c'è anche un casino sul discorso del gdpr della privacy tutti quanti che vogliono vendere i loro prodotti alla fine al momento non si sa neanche quali e quante sanzioni o se ci saranno delle sanzioni per cui permettere in regola queste cose qua quindi io vi dico state tranquilli lavorate sereni e se arrivano cose strane da pagare io dico sempre pagare morire c'è sempre tempo quindi aspettate soprattutto con le compagnie telefoniche dell'energia e del gas attenzione qui se poi ci sono problemi sapete che noi sappiamo come gestirle queste cose e sappiate che esiste un ufficio che si chiama plaviservizi.com è a sede a santa giustina bellunese e può essere d'aiuto su tutta la gestione di queste pratiche che vi fanno rizzare i capelli o non vi fanno dormire di notte se vi arrivano a debiti particolari da pagare per cose che voi pensate che non sono dovute bene spero vi sia servito un po questo video per farvi capire alcune cose guardatevelo e noi restate sempre collegati sui nostri canali social a presto buona giornata buon lavoro buon giovedì a presto a presto Grazie a tutti